Musica Vivi Limatola, un progetto che ha l'obiettivo di portare Limatola fuori dalle secche in cui è piombata in questi anni. Candidato sindaco della lista presentata ieri, Pietro Di Lorenzo, da sempre attento alle problematiche della cittadinanza. Limatola al voto, Limatola in una situazione difficile per l'economia, Limatola un paese composto da tante persone che si danno da fare tutti i giorni, che producono ma che vivono momenti terribili a causa della crisi economica ma anche per colpa di un'amministrazione comunale che negli ultimi anni ha lasciato tanto a desiderare. Allora tutti uniti intorno a questo grande progetto che si chiama Vivi Limatola per portare Limatola finalmente fuori dalle secche in cui è piombata negli ultimi anni.